Come lo trovi? Così, dice Enrico, la smorfia. Viene quasi picchiato dagli amici per aver fatto bene. Infatti, in realtà era un ottimo esercizio quello del biellese della Libertas Vercelli, 5,90 di nota di partenza e 9,567 invece di esecuzione, molto alto, 15,467. Ritorniamo a una delle nostre azzurre, l'Artistico 81 ancora con Federica Maccherini. Il doppio carpio di prima, molto ben eseguito anche per l'atleta dell'Artistico 81, qui ho ancora un triplo avvitamento, queste difficoltà le abbiamo potuto già vedere in altra competizione, molto importante quella degli europei, sono repertori che vanno a stabilizzarsi sempre di più, la continuità di questi esercizi, resa attraverso competizioni a breve distanza, di così alto impegno, sta a significare proprio che c'è un lavoro che si sta concretizzando nella fissazione di schemi motori che poi sono fondamentali per non avere più il dubbio dell'elemento tecnico prodotto, quanto invece necessità di esprimerlo per avere punteggi alti in funzione appunto alla capacità espressiva e alla capacità di controllo. Abbastanza bene signora Federica, anche se l'abbiamo vista prima uno sbilanciamento sulla rotazione, bisogna darle atto anche del tentativo non facile dell'aderenza a questo waltzer che obbliga l'atleta quindi ad una velocità di esecuzione.